Vado io. Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti. Eh, ma che... I segreti ci vuoi? Magari, ci conosciamo tutti a memoria. Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri crollari. E poi? Per la durata della cena, messaggi, whatsapp, telefonate, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo i segreti, no? Ora ti spiego. Ma che vuoi spiegare? Questa ha scritto, c'ho voglia di scopare. Tante volte puoi essere il T9, eh? Che cazzo dici per te? D'hai detto a me, sei troppo innamorato di mamma per capire quanta stronza. Le ho trovato un pacchetto di preservativi nella borsa. Oddio, se capitasse a Rosa. Amore, Rosa compie sei anni a giugno. Io non lo so mica se sarei una brava mamma. Ma perché sei incinta? Oh, allora la vostra. Non c'è ancora niente da brindare, Carlo. Ma c'è il fatto che qualcuno scopa? Questi cosi ci stanno rovinando l'esistenza. Ci stanno portando via il privato. Dio, se hai un amante, non lo voglio sapere. Parla, parla. Sono i tuoi migliori amici. Magari anche loro vogliono sapere, no? Io non voglio che finiamo come Barbie e Ken. Tu, tutta rifatta, io senza parole. Dammi quel telefono. Dammi che cazzo di telefono! Gioga. Siamo amici da buoni, siamo ragazzini. Ma ma vuoi dire chi sei? Oh, mi dici da quanto dura! Che cazzo? Che cazzo? Steve Jobs. Ma non era morto. Invece se era vivo, chiamava mia moglie. Ciao! Ciao!